Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Telegarda. Questo pomeriggio la Giunta Comunale di Riva ha ricevuto dalle mani dei tecnici di patrimonio del Trentino S.P.A. e dai loro progettisti l'elaborato definitivo del nuovo Palazzetto dello Sport che sorgerà su parte dell'area Ex-Betta, a sud dell'attuale polo fieristico. Per la presentazione del progetto esecutivo i progettisti hanno tempo fino al 30 giugno e successivamente bisognerà ottenere il via libera del Comitato Tecnico Amministrativo rispetto alla congruità della spesa e poi spetterà l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti in dire ufficialmente il Bando Europeo per la giudicazione dell'opera. I lavori di realizzazione della struttura dovrebbero partire entro il 2016. Il Palazzetto dello Sport avrà una capienza di 2.800 posti a sedere e oltre alle funzioni prettamente sportive avrà anche un carattere polifunzionale sia per eventi legati al vicino polo fieristico che per manifestazioni musicali. La nuova struttura sarà anche dotata di una rampa di accesso carrabile per consentire alcuni trasporti eccezionali all'interno del palazzetto come barche, auto e altri veicoli in occasione di particolari eventi.